Un fiume di spazzatura si dirige verso l'Ungheria. In pochi giorni le tonnellate di immondizia che sono arrivate alla torza in Slovacchia a causa delle forti piogge galleggiano minacciosi sul fiume Tibisco. Ci sono rifiuti congestionati anche sulla sponda ucraina. Gli ambientalisti hanno immediatamente attirato l'attenzione delle autorità ucraine, slovacche e ungheresi sui danni alla natura che derivano da questa situazione. Gli ucraini si stanno preparando per la pulizia, stanno cercando di estrarre questi rifiuti lì sulla loro sponda. Qui in Ungheria la Direzione Nazionale per l'Acqua ha chiesto l'aiuto dei colleghi slovacchi sulla base dell'accordo sull'acqua al confine slovacco-ungherese per intervenire nel territorio slovacco alla torza o quando sfocia a Bodrog. I volontari sono arrivati a Bodrog sul confine slovacco-ungherese per iniziare immediatamente a raccogliere i galleggiavano prima che raggiungessero l'Ungheria. Tuttavia, secondo l'esperto, i fiumi ungheresi non sono solo minacciati dall'inquinamento proveniente dall'esterno. Se analizziamo il corso dei nostri fiumi troviamo sempre più imballaggi con etichette ungheresi, quindi non abbiamo il motivo di puntare il dito contro nessuno. Dobbiamo concentrarci molto nel plasmare e cambiare il nostro atteggiamento. Uno degli elementi principali nella prevenzione dell'inquinamento dei fiumi ungheresi è l'educazione al rispetto dell'ambiente, ma è ancora più importante che la gestione di rifiuti pubblici sia risolta nelle regioni di confine dei paesi circostanti perché finché non c'è un posto dove smaltire i rifiuti verranno riversati nella natura.